L'inflazione batte un colpo, la BCE taglia e se ne pente e la Fed attende. Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici. Vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al nostro canale YouTube, sarete tempestivamente avvisati di tutti i nuovi video e potrete vedere in antiprima i nuovi video che andremo a postare. Naturalmente vi ringraziamo per il like che vorrete lasciare a questa nostra analisi. Era la settimana attesa per il primo taglio dei tassi in Europa e la BCE, dopo averlo lasciato intendere da tempo, non ha potuto esimersi dal farlo, anche per cercare di venire incontro ad una asfittica ripresa economica nel vecchio continente. Ma le parole che hanno accompagnato il taglio sono state molto caute e non hanno lasciato aperto alcun spiraglio per capire se e quando vedremo poi un secondo taglio. Gli ultimi dati non sono certamente andati nel verso delle aspettative dei funzionari di Francoforte che pertanto ora fanno i pompieri e si trincerano dietro al solito mantra, vedremo i dati che usciranno e ci adegueremo, escludendo con questo un secondo taglio a luglio in quanto usciranno successivamente i prossimi dati e spostando quindi almeno alla riunione di settembre se non addirittura a quella di ottobre. L'inflazione ha toccato un picco del 75% in Turchia e gli esperti ritengono che con l'attuale tasso di interesse al 50% la situazione si dovrebbe progressivamente raffreddare per poi rientrare su numeri più ortodossi. Più ortodossi ma rimarranno comunque sempre certamente molto più elevati di quelli di cui si parla in Europa o negli Stati Uniti. A proposito di Stati Uniti vi era attesa per il dato dei non farm payrolls, venerdì è uscito un numero nettamente sopra l'attese, è stata una doggia gelata per chi si aspettava che fosse ormai imminente anche un primo taglio da parte della Fed che a questo punto se tutto dovesse andare avverso è probabile che prenderà in esame la possibilità di un taglio non prima della riunione di settembre e forse lo farà per dover evitare di farlo in concomitanza della seduta di novembre che accadrà nei giorni proprio della elezione presidenziale e sappiamo che vi è una sorta di rispetto per l'elezione presidenziale americana. L'economia americana del resto ha un passo diverso da quella europea, sta continuando a crescere, sta portando posti di lavoro per cui è chiaro che vi è una sostanziale differenza fra l'inflazione europea e l'inflazione americana. Nel contesto dei rapporti Cina-Russia di cui vi avevamo già detto nelle scorse settimane segnaliamo che viene fermato il gasdotto Power of Siberia 2 anche se Mosca sta cercando in ogni caso di ricuscire lo strappo. Il Cremlino ha bisogno di mantenere rapporti cordiali con i cinesi altrimenti si rischia di trovare veramente molto isolato. In India Modi vince le elezioni ma non le stravince e pertanto dovrà trovare alleanze per poter governare e la borsa indiana va sull'ottovolante. Gli arabi collocano in poche ore le offerte di una quota della propria Saudi Aramco anche se poi si aspettavano un risultato migliore per tale collocamento. Andiamo quindi a vedere cosa è accaduto sui listini. Settimana numero 23, performance tutte positive, come vedete, indici europei e Dow Jones sono cresciuti di 1,0, ben più importanti rialzi dell'1,3 per SP500 e del 2,5 per il Nasdaq che a questo punto torna a essere il più importante listino per crescita in questo 2024. Andiamo anche a vedere i nostri grafici, partiamo dal grafico di casa nostra, è stata una settimana positiva, abbiamo detto per Piazza Affari ha guadagnato un mezzo punto percentuale, anche se forse le aspettative erano per un risultato migliore. In settimana abbiamo avuto molta volatilità sui titoli bancari e sappiamo che il nostro listino ne è pieno, titoli bancari che prima hanno pagato il taglio dei tassi, salvo poi recuperare dopo la conferma che il percorso della BCE proseguirà a ritmi decisamente blandi. Percorso esattamente opposto hanno fatto le utilities che sono salite sul taglio dei tassi e poi invece hanno progressivamente ceduto. Quindi nel complesso è stata una settimana di consolidamento, si è confermato il supporto dei 34.000 punti e la resistenza in area 35.000 punti. Il cedimento di uno di questi due livelli sancirà pertanto il movimento per la prossima settimana. La lunga lower shadow che vediamo essere stata disegnata questa settimana ci porta a ritenere che le probabilità maggiori siano per un allungo oltre i 35.000 punti e a seguire area 35.500 per poi puntare all'obiettivo dei 36.000 punti. Andiamo a vedere quello che è accaduto sul DAX, il listino tedesco, settimana positiva anche per il DAX, un più 0,3%. Anche sul DAX come su Milano volume in calo rispetto alla scorsa settimana, ma la differenza del DAX con Milano risiede nella shadow che a Milano abbiamo detto essere una lower shadow, qui sul DAX invece vedete un upper shadow. Per la terza settimana consecutiva c'è stato un test fallito sulla resistenza, sulla resistenza dinamica e pertanto adesso sarà importante vedere come proseguirà nella prossima ottava. Del resto in settimana è uscito il dato della manifattura tedesca che ha deluso nel suo complesso, anche se Commerce Bank con i suoi economisti ha fatto un'analisi e al netto degli ordini di grande dimensioni che sono stati in calo, hanno verificato che in realtà poi vi sia stato un aumento del 2.9% per quello che riguarda la manifattura in genere. Pertanto questo dato insieme agli indicatori di sentiment già positivi indica che il trend al ribasso della manifattura tedesca dovrebbe essere ormai alla fine. A noi vi fa comunque piacere far notare come con tutte queste difficoltà dell'economia tedesca bene o male il DAX stia sul massimo storico, tant'è che se dovesse riuscire a breccare la resistenza dinamica che come detto per la terza settimana ha ostacolato il rialzo, resistenza che per la prossima settimana sarà a 18.898 punti, praticamente sarà immediatamente massimo storico. Confermato il supporto in area 18.500 punti, anche se in settimana poi il minimo era stato a 18.365 punti. A Wall Street si viaggia invece con un'altra velocità, solo il Dow Jones si è comportato come abbiamo visto come gli indici europei, mentre il Nasdaq e l'SPE500 sono andati a registrare nuovi massimi storici. Nuovi massimi storici che ha registrato anche Nvidia, che a sua volta si tira dietro tutto il settore dell'intelligenza artificiale e della componentistica elettronica. Segnaliamo che proprio il gigante di Santa Clara da lunedì cuoterà dopo lo split 1 a 10 e pertanto aprirà le porte all'ingresso per un'ampia platea di investitori retail che al momento erano tagliati fuori dal prezzo unitario veramente elevato e questo probabilmente porterà ad un nuovo massimo storico per Nvidia. In settimana in Stati Uniti la campagna presidenziale ha visto un nuovo argomento, vi è stato un articolo del Wall Street Journal che ha scatenato il vespaio sull'età dei presidenti, praticamente il discorso è che il paese andrà a decidere tra Biden che è del 42 o Trump che è del 46 e pertanto il problema che si viene a creare è che il paese sarà guidato da una persona effettivamente molto in là con gli anni. Probabilmente un vicepresidente questa volta potrebbe avere ampie possibilità di subentrare nell'incarico. Andiamo quindi a vedere quello che è accaduto sul Dow Jones, Dow Jones che abbiamo detto aver guadagnato 1,03%, anche qui prosegue la similitudine con quanto avevamo già visto nelle scorse settimane dopo le due candele rosse, una candela di indecisione, eccoci qua, siamo sostanzialmente nella stessa situazione. Se dovesse proseguire la similitudine è facile pronosticare a questo punto per il Dow Jones un giugno in continua crescita e salita e che possa quindi riportarlo non solo sui 39 mila punti ma a ritestare anche quei 40 mila punti dove aveva già toccato e preso la scossa in tempi recenti. Se andiamo invece a vedere il Nasdaq, vediamo che il più 2,5% ha portato a un nuovo massimo storico, l'apertura era stata migliore della chiusura della scorsa ottava, dopodiché è sceso quasi a ritestare il supporto dinamico, dopodiché nuovamente al rialzo e a questo punto breakout della resistenza dinamica, allungo il nuovo massimo storico a 19 mila 113 punti, chiusura a 19 mila punti netti, in ogni caso anche qui non è stato confortato dai volumi, vedete i volumi sono rimasti bassi su tutti i listini e pertanto poi attenderemo una conferma. Il supporto per la prossima settimana sarà 18 mila 887 punti, dopodiché invece il Nasdaq ha davanti a sé ampio ampio spazio. Come abbiamo detto per il titolo Nvidia, dopo lo split dovesse effettivamente esserci la voglia di una buona parte del retail che finora era stata tagliata fuori ad entrare, è ovvio che a quel punto il titolo Nvidia faciliterà l'allungo del Nasdaq verso quota 20 mila punti. Chiudiamo infine la nostra analisi con SP500, candela similare a quella del Nasdaq, ma se vogliamo ancora più precisa, anche qui apertura migliore della chiusura della scorsa ottava, dopodiché sceso, test perfetto della dinamica rialzista e quindi nuovo giravolta a lungo massimo storico a 5.375 punti e chiusura a 5.346,99 per l'esattezza o come porta sul grafico 5.347 punti. Anche qui i volumi sono stati in calo e vedremo nella prossima ottava se il SP500 sarà in grado di andare a fare un nuovo massimo storico. Il primo supporto anche qui è a 5.253 punti. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ringraziamo per il like che vorrete lasciarci a questa nostra analisi, vi ricordiamo che per qualsiasi informazione ai nostri servizi potete scrivere a info-machtrader.it. Non ci resta che augurarvi una buona domenica.